Cinque anni di lavoro raccontati in 40 pagine e 140 foto. Si tratta della relazione di fine mandato pubblicata dal Comune di Montepulciano che seguendo la scaletta dei modelli ministeriali ripercorre in forma discorsiva settore per settore quello che è stato fatto negli ultimi cinque anni, partendo da quello che nel 2009 era stato scritto sul programma elettorale. Proponiamo ai nostri cittadini uno schema molto semplice di facile interpretazione in cui da una parte il cittadino troverà ciò che l'amministrazione aveva proposto in campagna elettorale e i risultati, o perlomeno come ha svolto la tematica durante questi cinque anni, i risultati e gli obiettivi raggiunti in questi cinque anni. Per cui il cittadino avrà nella massima trasparenza la possibilità di valutare quanto questa amministrazione sia stata attenta a portare a termine un programma di mandato ambizioso nel 2009 ma che dico oggi ben riuscito con obiettivi veramente di livello raggiunti. Uno tra tutti, 12 milioni e passa di investimenti, molte risorse investite in cultura e la grande valorizzazione del cantiere internazionale d'arte, lo sforzo fatto nella promozione delle nostre attività produttive, l'olio, il vino, il turismo, l'artigianato artistico. Ritengo che il cittadino avrà la possibilità veramente di giudicare l'operato di questa amministrazione. Grazie.